Sarà un buon giro, questo è sicuro sotto il 44, ho il sospetto che sia anche sotto il 43 e mezzo Sta per cominciare il penultimo giro, Lorenzo deve capitalizzare qui per provare a punzecchiare Valentino In staccata là, là in fondo dove c'è quel pilone 43 e 5, eccolo qua, gli passa un millimetro E Lorenzo, attenzione la staccata di Valentino, che tira il cosa ha fatto all'esterno Mamma mia, ma sta trante Ha frenato all'esterno, sulla lega bianca e ha trovato la corda Incredibile!